Un pareggio rotondo, pirotecnico e appassionante con la corazzata Casarano che vola ai play-off fa calare il sipario su una stagione a suo modo entusiasmante per i colori nero-verdi. Mister Valeriano Loseto risistema fra i pali il gattesco Petrarca, la maggino difensiva è costituita dal sempre più autoritario Tangorre, dallo statuario Gianfreda e dal titanico Silletti. Pendolini esterni Riefolo e Chiaradia, Lucchese qui distante in cabina di regia, assistito dagli industri Mariani e Clemente, davanti lampeggia il genio di Maffei ed esplode la possa di Figliolia. Antonio Foglia Manzillo risponde con il primo degli ex carotenuto in porta, nel reparto arretrato sulle fasce gli infallibili Bocchetti e Parisi, in mezzo Cipolletta e Rizzo, in mediana il guerriero Marsigli e l'infaticabile De Luca, batteria dei trequartisti con Dellino, Citro e il fuoriclasse Strambelli, Saraniti, Vespigno in attacco. Dopo il minuto di commosso raccoglimento, in doveroso ricordo degli splendidi angeli Alessandro, Lucrezia, Tommaso e Floriana, positivo non meno che fugace l'approccio di Bitontini, con Maffei che si invola e serve Riefolo che di piatto ci prova, blocca il portiere. Risalgono i Salentini con piglio deciso, minuto 10, contropiede vertiginoso e sinistro alto di Strambelli. 120 secondi ed è vantaggio, azione ben orchestrata e dolce pennellata del 10 per Citro che incorna imparabilmente. Poco prima del quarto d'ora, fugge Chiaradia sulla fascia e crossa, Bocchetti providenziale sventa. Intorno alla mezza, Tangorra illumina, irresistibile ma fe per figliolia, zampata d'incontro, deviazione disperata di Cipolletta. Piazzato benefico dalla trequarti di Chiaradia al 31esimo, abbranca l'estremo ospite. Due minuti e contatto veniale in area fra Riefolo e Dellino, che frana in deliquio. Per Mirri e Rigore, Strambelli dal dischetto spiazza Petrarca e raddoppia. Dagli spogliatoi, i leoni fuoriescono più ruggenti che mai, anche grazie ad alcuni cambi lungimiranti operati dal tecnico barese. Settimo, filtrante di Chiaradia per Maffei, punta maligna e Bocchetti sulla linea ultima, spazza. A quattordicesimo, Silletti rinvia impreciso, Saraniti intercetta, entra nei 16 metri e supera Petrarca, mirabile il salvataggio di tacco sulla riga bianca del centrale difensivo. È il ventiseiesimo quando Cardore imbecca Arguto Maffei al limite, dribbling lesto con tunnel buggerante ai danni di Rizzi e parabola diabolica a giro nell'angolo, 1-2. Ad una manciata di minuti dalla mezz'ora, Slalom di Chiaradia sulla sinistra e Boli dell'incrocio, Carotenuto si inarca e mette in angolo. Dal corner, Lex Gravina, fa spiovere la sfera in area, artiglio fulmino di Tangorre, ed è il giusto, meritatissimo pari.